Sì, è morto per te, secondo me mi hanno segnato il gioco, ecco mi hanno pagato, bambia! Fatto sotto, mucchi! Ecco Bryce al limite dell'area! Ma c'è questo? Sì, è pronta a tirare! Due dipendenti lanciano verso di lui per fermarlo, ma Bryce riprescerete a tirare! Eh? Che stava fuori? Quando mai? Io, Bryce! La porta sta arrivando come un molite! E quando mi ha segno? Vorno! Tony! Ma io sono Gennaro! Warner si tuffa verso il pallone! Becker si interviene! E colpisce di testa! Bellissima rinnovazione di Becker! Eh? Ma lo hai già buttato! Brava Gennaro! E quando hai segno? Tu devi dare la capa al limone! Torno di testa, Becker! Hai inaspettatamente deviato la traiettoria del pallone! Uh! L'ho buttato fuori! Il tiro è troppo indiagonale! A pallone! A sbagliare! Ah! Eh? Ecco la storia che sta dirigendosi verso la palla! Andiamo io mamma, ho già segnato! Allora! Antonio! E guarda che si lancia verso la palla! Hai già segnato leopardo e poi mi sei scogna miglia! Non esiste poco! Amma Parigià! Non esiste Everytime di Iwan Addysol Atton si appoggia con una mano a terra e fa una rreciata! Giro fortissimo! Fui immaginato! Amamaramaron! Ed è gol! Gol! Aston è riuscito a segnare! E lo sapevo! Aston è riuscito a segnare! Aston è riuscito a segnare! Aston è riuscito a segnare! Capitoli accessible! È visibilizzato a segnare! Aston è riuscito a segnare! ...